Al seguito di San Tespino troviamo la contrata del Costa, la contrata del San Pilisopolo, rappresentata dalla parrocchia di San Pietro Martire, indistinguibile anche qui in colore di bianco e di cese. La corporazione è formata da Pugliani e la volta della contrata Mercanti rappresentata dalla parrocchia di San Francesco, indistinguibile anche qui in fronte al palco, in segno di saluto all'indirizzo di Dugga e della Chiesa. In questo annuncio attendono che raccolse la sfida da parte dei soldati di ventura. Il secondo concorrente dovrà adesso caricare la Cariola leggermente in ritardo, il concorrente di Castello in corsia centrale, sempre più netto il vantaggio per San Martino, il secondo concorrente si sta avvicinando, è arrivato adesso alla linea di arrivo con San Cristino di Spigliano in corsia numero uno e Bronzone in corsia numero due. Ecco, avete visto che è stata fermata la ragazza di Brugliani perché il cerco da parte di Grigliora che è in vantaggio, in vantaggio contato su Mercanti, con i concorrenti di Castello, San Crespino e di Spigliano è stata in corsia numero dell'amico Giancarlo Grigliora. Per me questa è stata una grande soddisfazione, diciamo, non ho altre parole, per ringraziarvi del vostro pensiero in ricordo di Giancarlo, grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti.